Ciao, terzo video sulla fotogrammetria, quindi sulla ricostruzione di modelli da fotografie e sto elaborando questo flusso di lavoro. Ho fatto uno schema che sintetizza quei cinque passaggi che ho individuato, che in realtà sono quattro, con uno opzionale, e che permettono di passare da fotografie a modelli. Modelli che ce ne facciamo che cosa? Li importiamo in SketchUp, li utilizziamo a seconda, che sia un esterno, che sia una facciata, un interno, un singolo oggetto, ovviamente le cose cambiano. Con questo tutorial vorrei far vedere che cosa ho scoperto, ho sperimentato, in Meshroom, quali sono quei cinque passaggi obbligatori, utili, per ottenere un output, che può essere, ora lo vedremo, o una Mesh, quindi una serie di superfici, quindi oggetti, qualcosa che importi in SketchUp, o una nuvola di punti, che posso pur sempre importare in SketchUp, ma attraverso Undead o Trimble Scan Essentials. Dipende un po' dall'utilizzo che si vuole fare, dipende dal tipo di oggetto che sto rilevando. Sono giorni e giorni che mi arrovello su Meshroom, perché lo trovo molto interessante, questa cosa per cui lo si può customizzare, quindi questo è un vero e proprio tutorial su come usare Meshroom. Metto a disposizione le fotografie, ci sarà un link nella descrizione del video, che permette di andare a scaricare lo stesso dataset, cosiddetto, che ho utilizzato io, che sono foto che ho rilevato lì sul posto. Vediamo come usarla in Meshroom, quali sono quei cinque parametri fondamentali a cui mettere mano, per ottenere una Mesh, di Mesh parleremo soprattutto in questo caso, non di nuvole di punti, da fotografie. Con Meshroom per l'appunto, cominciamo. Vediamo allora bene questi passaggi. Uno, l'acquisizione delle immagini con smartphone o reflex. L'output è la serie di fotografie, che possono essere anche migliaia. Su questo già ci sarebbe da fare un tutorial tutto intero, bello approfondito, e lo farò probabilmente in futuro. C'è già del materiale online, soprattutto in inglese, su questo. Ma c'è tutta una serie di accorgimenti che bisogna tenerli, magari adesso farò vedere qualche informazione in più su questo. Il secondo passaggio sono i software di elaborazione fotogrammetrica. Ce ne sono tantissimi, Meshroom, 3D, F-Zephyr, Reality Capture, Metashape, ce n'è un'infinità. Io sto utilizzando Meshroom perché mi sto trovando bene, è gratuito ed è facile da usare. Qui l'output possono essere due. La Mesh di superficie, le vediamo qua sopra, c'è una Mesh, sottolino, sono superfici, o la nuvole di punti, che invece sono tanto punti, quindi sono impalpabili. Da lì cosa dobbiamo fare? Terzo punto, che è quello opzionale a mio avviso, quello di ripulire, ruotare, ritagliare, scalare, che sia la Mesh o che sia la nuvole di punti, o quindi in un software specializzato, specifico, Cloud Compare, Mesh Lab, Mesh Mixer, ce n'è quanti si vuole. Ma in realtà l'elaborazione la possiamo fare, e l'output in quel caso poi andrebbe importato in SketchUp. Ma in realtà questa rotazione, scalatura, traslazione, lo possiamo fare direttamente anche in SketchUp. La Mesh la importo dentro così com'è, la importo dentro direttamente il file, lì c'è tutto da ragionare su che formato utilizzare, ne parliamo. Oppure, se si tratta della nuvole di punti, porto dentro la nuvole di punti, con Undead o Trimble Scan Essential, perché in SketchUp altrimenti non importa la nuvole di punti. In quel caso, avendo soltanto punti, ricostruisco io le geometrie. Quindi è chiaro che si fa riferimento a casi differenti. Se si tratta di un edificio di cui voglio ottenere un modellino geometrico, semplificato, gestibile, non fatto di milioni di vacce, probabilmente propenderò per questa strada qui. Se invece ci sono geometrie complesse, articolate, modellate, modernature, potrei passare dalla Mesh. È chiaro che questo pesa di più, pesa 8 MB e 3 MB. Lì si può ragionare, perché posso comunque provare a contenere il peso, ridurre il numero dei poligoni, cosa di cui parleremo fra poco in Mesh Room. Dall'altra parte poi pesa 0,26 MB, ma è chiaro che ci sono finalità differenti, qui non sto a discutere sul cosa me ne faccio dopo. È chiaro che questo lo utilizzo poi nel mio progetto di interni, perché è quello che mi è servito adesso questo caminetto. Quindi c'è un punto, perché viene prima di questi 5, che è la scelta del soggetto, su cui non ho intenzione adesso di dilungarmi. Cioè, ci giro attorno come ad una scultura, ci cammino davanti come ad una facciata, devo seguire percorsi differenti. Ci sono problematiche note, anche questo va detto proprio un po' a monte, che so a che fare con materiali trasparenti, riflettenti o monocromatici, difficile che la fotogrammetria riesca a ricostruire quei punti. Deve notare, software fotogrammetrico, colori, puntini, texture differenti, per riuscire a ricostruire, attraverso tutti i suoi algoritmi trigonometrici, quello che sono, il modello 3D, cioè la posizione dei punti, e quindi poi una mesh, perché la mesh deriva dalla nuvola di punti. La prima cosa che salta fuori è una nuvola di punti, va detto. Si possono in parte risolvere queste problematiche, c'è poi tutto il tema di ring light, filtri polarizzatori, se voglio fare proprio un lavoro in studio, fatto super bene. Il caso studio, si nota quanti temi ci possono aprire, quindi sicuramente farò qualche altro tutorial, spero che vi stiate appassionando, questo tema della fotogrammetria incredibile. Questo so io che quindi faccio le foto, in questo caso che percorso ho seguito, un po' a mezza luna, bisogna spostarsi, foto fatte dalla stessa posizione non servono a niente, e anche foto ravvicinate, in modo da avere texture di maggiore qualità, perché faccio delle foto ravvicinate, che vedono porzioni, ma ho anche delle foto d'insieme, che fanno da, fanno come dire, la mappatura d'insieme dell'oggetto. L'importante è avere anche texture da vicino. Allora, i principi di acquisizione delle immagini, l'ho detto, non ho intenzione di soffermarmi su questo, in questo tutorial, sono riassunti, qui li ho separati in tre sezioni, questo è il riassunto di decine e decine di siti manuali e corsi, che sto seguendo in questo periodo, c'è fior fiore di materiale online, specialmente in inglese, caratteristiche delle foto, qui neanche sto a commentarli tutti, c'è parecchio da ragionare su come acquisire le fotografie. In questo caso le fornisco io, sono già buone, sono fatte con la reflex, e quindi sono di grandi dimensioni. Vediamo come elaborarle in meshroom. Torno un attimo allo slide precedente, se vuoi provare per conto tuo a fare questa cosa, prova direttamente con lo smartphone, muoviti, con lo smartphone muoviti, giraci attorno all'oggetto, prendi angolazioni differenti, anche se diventano centinaia di immagini, fa niente, il tempo di elaborazione sarà un po' più lungo, ma il software tirerà fuori quel modello tridimensionale. Al contrario, puoi anche lavorare con 10-15 immagini, questa è una delle cose incredibili di questi software, anche da pochissime immagini, una decina, riesce a tirarti fuori un modello 3D, più preciso, meno preciso, c'è da vedere, ma veramente anche da poche fotografie, qualcosa lo tirano fuori. Ma quello di cui voglio in particolare parlare in questo video, appunto, è cosa fare in Meshroom. I 5 punti fondamentali che ho individuato sono questi, la colorazione della Mesh non se ne può fare a meno, adesso vedremo meglio dove andare ad attivarla. Vi farò vedere anche Meshroom cos'è, dove andare a scaricarlo. Andremo a modificare un altro parametro per approfondire il calcolo, restringere l'angolo in modo da concentrare il calcolo al centro, come ridurre il peso della Mesh finale, sia dal punto di vista del texturing, che con il numero di poligoni. E qui ho fatto proprio tanto di calcolo, vediamo il foglio di calcolo, ho fatto tanto di comparazione, variando questi parametri, perché sono uno che quando poi ci si mette, si apre un bel foile Excel, e va lì a verificare, cambiando questo, cambiando quell'altro, cosa cambia? Allora, Meshroom, dove andiamo a scaricarlo? Metto il link in descrizione, Alice Vision, Meshroom, download, e lo si installa. Volevo far vedere anche quello, ma è superfluo, ce ne sono decine di software che fanno questa 3D reconstruction, e andiamo a vedere Meshroom. Allora, una volta installato, si presenta in questo modo, con, quindi, alla sinistra, facciamolo subito, File, Import Images, Import le mie fotografie, e le vedo qui. Qua mi fa capire, se ha riconosciuto, il tipo di lente, di questa specifica macchina fotografica, e mi dice la marca, mi dice il modello, mi dice la lunghezza focale, le dimensioni del sensore, lui c'ha un database, proprio al suo interno, lo si può tranquillamente andare a reperire, è proprio un foglio, eccolo qua, Camera Sensors, ce l'ha proprio nei suoi file di sistema, io qui ho individuato anche le mie altre macchine fotografiche, quindi riesce a riconoscere. A volte, se carichi le foto dallo smartphone, gli dice, non l'ho trovata nel mio database, quindi cerco di ottimizzare, faccio un'approssimazione, in quel caso il risultato potrebbe essere meno buono. quindi questo simboletto verde è importante. Qui viene visualizzata una fotografia, quella che noi andiamo a selezionare, e sulla destra abbiamo lo spazio in cui verrà fuori la nostra nuvola di punti e le mesh, la o le mesh, perché una cosa straordinaria che caratterizza meshroom è questa pipeline cosiddetta, che vediamo qui sotto, cioè sono dei nodi che lui va a calcolare in sequenza, uno dopo l'altro. Fanno varie elaborazioni che possiamo andare a vedere, proprio scritte nere su bianco, in questa pagina, magari metto il link in descrizione, sono in una delle parti che parlano di meshroom, che non ha un vero e proprio manuale, ha vari manuali, pezzi che si trovano online, pagine, alcune vecchie, alcune nuove. Questa è una sezione in cui si spiega tutta la pipeline, come funziona quel primo passaggio lì, quell'altro passaggio di là. Praticamente di quello che il software va a fare, riconoscere colori simili, punti simili, ricostruire le loro posizioni nello spazio, creare quindi prima una nuvola sparsa, poi una nuvola densa, quindi poi creare una mesh, unendo insieme praticamente i puntini, pulirla quella mesh, perché magari vengono fuori dei triangoli sbagliati, troppo grandi, o sì, da eliminare, quindi viene filtrata, e infine viene applicata il texturing su questa mesh. Qual è il bello, quindi di tutto questo calcolo che viene fatto in successione? Che tu ne puoi copiare pezzi, ne puoi copiare parti, lo puoi derivare, insomma, delle varianti. Per ciascuno di questi blocchetti qui, ci sono una serie di parametri che li vediamo sulla destra. Questa è l'interfaccia di Meshroom, qua si zooma dentro, avanti e indietro, se si vuole. E adesso faccio vedere il calcolo che io ho già fatto fare. Se tu hai appena aperto Meshroom e hai caricato le fotografie, abbiamo un solo pulsante, clicca start, e dovrai aspettare un'ora e tre quarti circa, perché termini il calcolo, perché è veramente complesso, cioè da ogni fotografia lui la deve analizzare a livello, caspita, microscopico, per capire come sono disposte nello spazio queste 39 fotografie. E nel frattempo faccio vedere invece appunto la pipeline, come l'ho personalizzata, con quei cinque punti, come ho detto, che possono essere customizzati. Ora, far andare, questa è appunto la pipeline come io l'ho personalizzata, far andare il calcolo non è tempo perso, poi come si vede qui sotto, poi aggiungere altre varianti, che sono riconducibili a questi cinque punti che indicavo qui sopra. Allora, attivare la colorazione della Mesh è sostanzialmente obbligatorio. Ah, vediamola questa nuvola di punti, attenzione, eccola qua, venuta fuori, ci sono i triangolini e i piramidini che fanno capire le posizioni in cui c'erano le foto, quindi insomma la magia è riuscita e ha trovato una posizione per tutti questi punti. Qua sulla destra c'è il diametro dei punti, le dimensioni per le macchine fotografiche, e quindi insomma ti puoi godere la tua nuvola di punti. Giusto per, che così vediamo il risultato finale, cosa faccio? vado a fare doppio clic sulla questa variante qui, texture in cinque, ci mette qualche secondo, ma viene caricata qui nel visualizzatore, qua c'è l'occhiolino, quindi posso vedere la nuvola di punti, o la Mesh, o le Mesh, nelle varie varianti insomma, che vado a studiare. Si fa doppio clic, si carica insomma quel determinato nodo nel visualizzatore, togliamo di mezzo questo e questo, così lo vediamo bene. Eccolo qua, questo è un po' il risultato finale, lo vediamo subito qua, bello, bellissimo, con le sue triangolazioni, con la sua texturizzazione applicata sopra. Allora, la colorazione della Mesh, dicevo, questa la si fa selezionando il nodo Mesh, perché altrimenti viene fuori una Mesh bianca, come questa qui. Magari ti basta quella, perché ti interessano soltanto le geometrie, se invece ti interessa anche l'aspetto coloristico, cromatico, eccolo qua, Mesh, Colorize Output, attenzione che bisogna espandere, Advanced Attributes, per vedere l'elenco completo. Vabbè, Colorize Output lo si vedeva comunque, comunque consiglio di attivare Advanced Attributes, così li vediamo tutti. E questo sicuramente è importante, importantissimo. Se non lo si era fatto, ecco una cosa bella che ti permette di fare Mesh Room, se non l'avevi fatto la prima volta, puoi semplicemente cambiare quel parametro, cliccare a tazza destro, Compute. Lui parte a computare da lì. E anche a valle, quello che manca, insomma, quello che gli serve, insomma, per ricalcolare quel nodo. Non serve quindi rifare proprio tutto, tutto da zero. Queste varianti che vediamo qui sotto, adesso analizziamo un attimo anche gli altri punti, quindi, se si hanno meno di 300 immagini, questo cito da manuale proprio di Mesh Room, il nodo feature extraction, aumentare describe a passetta, normal a high. Io non ci ho notato grandissime differenze in realtà nel fare quella modifica lì, però in teoria va a vedere un po' più approfonditamente le foto, le analizza più in profondità, ci mette quindi anche in teoria un po' più di tempo. Come faccio a creare una nuova pipeline? perché da qui si prende un'altra strada, E qui a valle, quindi ho 5 output differenti, che li posso caricare tutti e 5, vedere uno a fianco all'altro. Allora, la duplicazione si fa così, un attimo perché non me lo ricordo mai, clicco alt, alt tasto sinistro. Lo faccio, lo faccio, non lo faccio, perché dopo mi trovo che spostarli uno ad uno, faccio qua, tovia, alt tasto sinistro, mi crea una copia da quel nodo lì in giù, con i suoi collegamenti a quello che gli serve. Quindi questo adesso lo rimuovo, perché in realtà non mi interessa, quindi remove node, e io l'avevo fatto praticamente da qui, filtro extraction, da qui in giù me li ha copiati tutti, in questo filtro extraction, allora sono andato a mettere i describer, secondo me non era aggiornato manuale, perché parlavo di describer per set, ma qua adesso ce ne sono due, describer density e quality, io li ho messi tutti e due su high, e non è cambiato di tanto, ma cominciamo a vedere un po' i tempi, cosa è cambiato un po' nel calcolo, e questo è il magico Excel, che mi ha permesso di fare un po' tutto questo confronto. Queste sono le foto fatte con Samsung, con il smartphone, e il risultato è stato un po' meno di qualità, comunque valido, e i tempi sono stati di un'ora 44, un'ora e 30, cambiando un paio di parametri. Queste invece sono, pardon, queste sono cinque varianti che ho fatto sulle foto da smartphone, che è stata un po' la prima prova che ho fatto. Le foto da reflex sono queste qui, questo è default pipeline, se lo lanci ti dovrebbe dare un'ora e 24 di calcolo, non avendo modificato niente, ho solo cliccato start, un'ora e 24, sono venuti fuori 3.655.000 poligoni, 74.000 punti, ci ho fatto anche un calcolo spannometrico di quanto veniva fuori in SketchUp, 2 giga e 2. Dividendo questo per 1.6, dov'è, dov'è, dov'è? K17, se dividendo questo per 1.6, circa ti viene fuori il peso in megabyte in SketchUp. Questa seconda variante, allora, mettendo high nel feature extraction, è passata da 24 minuti a 38 minuti. Dov'è che si vedono i tempi? Faccio vedere subito per i maniaci come me che vogliono andare a vedere di preciso tutto quanto. Allora, seleziono il nodo, vado qui a attributes log, ti fa vedere tutti i calcoli che ha fatto, microsecondo per microsecondo, e su status, giù in fondo, ti dice il tempo totale che ci ha messo, è l'upset time 26.43. Perché 26.43? Perché ho selezionato, beh, forse non ho selezionato il nodo giusto, 26.43, no, mi ero, forse avevo fatto un errore io, 26.43, non 24.43. Perfetto, avevo anche sbagliato un numero quando si fanno le cose alle 6 di mattina, perché veramente alcune di queste ho dovuto farle la mattina presto, quando ho tempo. E, ecco, ho messo su high, i tempi sono leggermente aumentati. Da 26 minuti che ci aveva messo con le impostazioni default, è passato a 38 minuti, in teoria ha analizzato meglio una nuvola, meglio farlo. L'altra cosa è quello di aumentare l'angolo di, che viene sottoposto al calcolo, restringere il campo di terreno, più che aumentarlo. Nel nodo meshing possiamo aumentare l'angolo di minimo observation angle for SFM space estimation. SFM is structure for motion, from motion, che è un po' l'algoritmo, che è un po' il cuore di tutto questo. noi non lo stiamo facendo da motion, cioè da film, da video, stiamo facendo da singole fotografie, ma sempre di quello si tratta, insomma, un video è fatto di fotogrammi, quindi si parla anche di structure from motion, per l'appunto. Ecco, questo parametro qui, se noi lo mettiamo su un valore un po' maggiore, andiamolo a vedere, meshing, qui, sono andato a mettere, attenzione, ritorno su attributes, dov'è dov'è dov'è? Aspettate perché ci sono tanti di cui parlare, su meshing, qui era 10, qui era ancora 10, e poi l'aumentazione, poi l'ho ridotto, e l'ho rifatto il calco, vabbè, poco importa adesso, poi ho rimaneggiato, ritornando indietro, cosa non si dovrebbe fare, era meglio se lasciavo i parametri così come erano, si vede anche, insomma, che qui, questi non sono più verdi, se modifico un parametro, potrei cliccare compute, e lui andrebbe a ricomputare questo, e a valle, gli altri due che c'erano collegati, e cosa fa? Che quindi va a concentrare il calcolo, su una zona più dettagliata, quindi, mentre nelle prime nuvole, andiamo a vederla, perdon, era già visibile qui, eccola qua, la mesh iniziale, era molto più ampia, aumentando a 60, gli ho detto, concentrati solo, nella parte più centrale, ho provato anche con 90, e rischiavo quasi di tagliarlo via il camminetto, tanto era ristretto, come dire, questo angolo, non ho ben capito, a cosa si riferisce questo valore, ho dovuto fare un po' sperimentare, diciamo che, lo si vede, valore 10 ha portato a questo, quindi una porzione molto più ampia, che vede praticamente a 180 gradi, fra tutte le foto che ho fatto, rivediamole, le foto dove sono, quindi questa vedeva qui di fronte, questa vedeva di là, aumentando a 60, il risultato è stato questo, ha ristretto la zona, praticamente il calcolo, la mesh, si è concentrata sulla zona, al centro, fra le varie foto che ho fatto, rivediamole, e questa è la mesh, queste sono le foto, e questa è la mesh al centro, eccolo qua, quindi insomma, non costa niente andare qui, cambiare il parametro giusto, vediamo che, i risultati sono cambiati, cosa ha comportato, in una diminuzione del tempo, mentre nella default pipeline, ci aveva messo 23 minuti, qui ci ha messo 17, perché gli sto facendo concentrare il calcolo, su una porzione più ristretta, quindi, ha maggior vantaggio, peraltro, no, dipende poi dalla forma del soggetto, chiaramente, poi che cosa sono andato a modificare, e qui viene un po' il bello, il numero di poligoni, di passaggio, siccome è una cosa veloce veloce, lo dico subito, è meglio anche cambiare il texturing, da obj a jpeg, quindi dobbiamo andare nel texturing, texture type, vediamolo, adesso qua, io ho fatto varianti su sotto varianti, in realtà tutte queste modifiche di cui sto parlando, ci possono benissimo fare, al primo avvio, e lanciare il calcolo, già con tutti questi parametri impostati, chiaramente, seleziono texturing, abbiamo texture, file type, qui ci sono vari tipi di file, se io seleziono png, mi vengono fuori dei file, che pesano, nell'obj, faccio vedere, che pesano qualcosa come 10-12 megabyte ciascuno, eccoli qua, 12 megabyte, perché dobbiamo sapere che l'obj si basa poi su queste 6 immagini, cioè va a scomporre l'immagine in tante porzioni e porzioncine, e poi, quando io importo in sketchup, lui sa dove esattamente applicare tutti questi pezzettini di texture, sui vari triangolini della mesh, il punto qual è? non ci interessa tanto sapere come funziona l'obj, ci interessa come fregarlo, tra virgolette, non utilizzando il png, ma usando il jpeg, i jpeg che ho tirato fuori, sono diventati, li vediamo qua, 68k, 50, 70 kilobyte, erano 12 megabyte, prima, chiaro che magari la qualità era maggiore, per carità, però, in caso di un camminetto, materiale anche deteriorati come questi, non è che mi interessa avere una qualità della texture così spaventosa, e qui siamo al quinto punto, quello più, come dire, chiave, che riduce il numero dei poligoni della mesh finale, ridurre il numero di poligoni, quindi aggiungere un nodo mesh decimate, perché noi possiamo aggiungere nodi, e gli introduciamo questo ulteriore calcolo, che va a, prendere la mesh, prima di applicare la texture, gli riduce il numero di vertici, non tanto di poligoni, ma di vertici, teniamo presente che, tot di vertici, equivale a, un numero doppio, espresso in poligoni, qua sotto si vede il lavoro che ho fatto, quindi si tratta di cliccare, tasto destro, espando un attimo la sezione pipeline, perché come si capisce molto si gioca qua sotto, prenderci un attimo di dimestichezza, poi è veramente comoda, clicco tasto destro, un punto qualsiasi, possiamo aggiungere vari tipi di nodi, per cui quello per esportare la nuvola densa, dove è finito? va bene, magari ne parlerò in un altro video, di come esportare la nuvola densa, perché anche quello non è semplicissimo, eccolo qua, convert SFM format, no, quello che ci interessa adesso invece è mesh decimate, e il nodo lo piazziamo lì, cosa si fa? si cancella il collegamento originario, tra mesh e mesh filtering, no, attenzione, tra mesh filtering e texturing, tasto destro, remove, questi nodi, questi sono collegati da cavi, tasto destro, remove, e poi noi, e poi siamo noi, a inserirne uno di nuovo, lo faccio qui, remove, e remove, posso tenere promuto su mesh filtering, collegarlo a input nel mesh decimate, e dal mesh decimate collegare al mesh del texturing, mentre prima quindi mesh filtering, e texturing erano collegati insieme direttamente, vediamolo nella pipeline originaria, mesh filtering era collegato direttamente col texturing, ho introdotto mesh filtering, mesh decimate, questo cavo qui, e poi questo cavo qui che collega il mesh decimate al texturing, questo nuovo nodo mesh filtering, mesh decimate, mi permette di impostare qui il numero di vertici, quindi ho provato con un 25.000, e vedete quante varianti puoi fare, con 50.000, con 100.000, tanto metti un nodo, cambia il numero, e lo lasci macinare, ci mette, come vediamo qui, quanto ci ha messo, allora, quando l'ho messo su 25.000, ci ha messo un minuto, a ridurre il numero di poligoni della mesh, quando l'ho messo su 50.000, ci ha messo due minuti, quando l'ho messo su 100.000, ci ha messo due minuti, quindi non stiamo parlando di tempi lunghi, si tratta soltanto di, aggiungere un po' di perfezionamento, allora, quando ho impostato 25.000 vertici, sono venuti fuori 46.000 poligoni, circa il doppio come si vede, 50.000 vertici, 96.000 poligono, e 100.000 vertici, 196.000 poligoni, io ho scelto quest'ultima come configurazione, come migliore, vincente, proprio su tutte, perché dobbiamo tenere presente, che comunque io poi posso cancellare, un bel po' di tutta quella roba, quindi si rilancia il calcolo, con tutta questa customizzazione, di cui ho appena parlato, e alla fine, per ottenere la mesh, non si tratta di esportare, ma di cliccare tasto destro, sul nodo finale, open folder, questa cartella che meshroom crea, lo faccio vedere un attimo meglio, è percorso, quando io ovviamente salvo, meshroom, prima o dopo aver lanciato il calcolo, salvo, si crea il suo file, caminetto, .mg, durante il calcolo, lui si crea nella stessa cartella, questa qui, meshroom cache, doveva mettere, 10 gigabyte pesa, doveva mettere tutti, i vari suoi calcoli, questi sono i vari nodi, che vedevamo prima, quindi qua dentro, trovo il risultato, di ciascuno di questi nodi, quello che ci interessa a noi, è dentro all'ultimo, texturing, e lui crea queste cartelle, con questi nomi un po' assurdi, per ciascuno di vari calcoli, lanciati, io avendo fatto varie prove, o varie cartelle, quella che mi interessa, l'ultima, con il perfezionamento, che ritengo migliore, è questa qui, e dentro trovo, la texture in formato obj, il file material, che si accompagna ai file obj, e le immagini, ho poi fatto delle sottocartelle, ho fatto delle varianti, tu qui dentro ci puoi mettere mano, magari non toccando, i file che si è creato lui, ma creandone delle copie, spostando, in una sottocartella, delle ulteriori copie, e qui si apre il capitolo successivo, ora, cosa ce ne facciamo di questo obj, apro sketchup, il punto è che sketchup, non importa direttamente gli obj, allora posso passare, da cloud compare, mesh lab, mesh mixer, dal software che preferisco, per elaborare la mesh, e poi esportarla, in un formato, che sia importabile in sketchup, sketchup cosa importa, importa 3ds, importa DAE, e molto altro, sinceramente i risultati migliori, li ho ottenuti comunque con l'obj, però come faccio a importare l'obj in sketchup, installo un'estensione, l'estensione, Universal Importer, adesso la farò vedere, un attimo perché c'è un po' di plug-in installati, ne stavamo sperimentando altri, in questi giorni, e mi permette di importare anche gli obj, di questo parlerò però nei prossimi video, dedicati al tema, perché altrimenti questo video qui, durerebbe un'eternità, e preferisco tenere un po' separati i vari passaggi, con Universal Importer, che lo si può tranquillamente trovare online, può importare anche gli obj, faccio qui vedere un po' il risultato, qual è stato, e attenzione, ho fatto la ripulitura, la rotazione e via dicendo, direttamente in sketchup, ma magari farò vedere anche come farlo con Cloud Compare, che non è difficile, bisogna un po' prenderci mano con Cloud Compare, ma è fattibilissimo, eccola qua, la mesh finalmente, questo qui l'avevo poi salvato come componente, questo è il risultato finale, visualizzato in sketchup, certo se mi avvicino, se ne può parlare, caspita, l'ho ridotto il numero di poligoni, l'ho ridotto la qualità delle texture, bisogna che ciascuno faccia la riduzione, la personalizzazione di questi valori, di questi passaggi, un po' in base alle proprie esigenze, ma per quello che mi interessava a me, che è di utilizzare poi questo all'interno del progetto, è un'antica abitazione, che è soggetto di totale ristrutturazione, questo mi basta e mi avanza, anzi, magari poi cancello un po' delle parti, qui intorno, ma il dettaglio dell'antico caminetto, l'ho portato dentro, che è uguale a come era in foto, come l'ho visto lì, all'interno poi di un render, di una vista di insieme, farà la sua figura assolutamente, poi ovviamente se voglio cambio il colore, lo risistemo, cioè ci posso poi mettere mano su questa mesh, vediamola un po' come è fatta, sui triangoli e nell'elenco dei materiali ci sono quei jpeg, quindi impostare jpeg come dicevo e ridurre il numero di poligoni, il risultato lo ripeto lo si trova cliccando tasto destro open folder e da lì in poi si apre un'altra storia, magari ci ritornerò appunto con un prossimo video perché si tratta da lì in avanti di scalare, fondamentalmente queste tre cose qui, scalare, ruotare e traslare, soprattutto sull'asse Z nella posizione corretta, all'altezza corretta, la mesh, questa cosa come detto la si può fare anche direttamente in SketchUp, bisogna essere un po' bravini, un po' accorti, ma la si può tranquillamente fare anche in SketchUp, al posto che in Cloud Compare. Allora, spero di aver dato un po' l'idea, mettere a mano questi nodi, queste strutture, all'inizio dà un po' di brividi, perché magari non ci sei abituati a lavorare con queste cose così, fatte ad algoritmi, ma tutto sommato è abbastanza, è veloce, fatte le fotografie, lo ripeto un'ultima volta, basta personalizzare un pochino questi parametri, si ottiene il modello tridimensionale, quindi la mesh, che è facilmente importabile in SketchUp. Per questo video è tutto, se vuoi approfondire SketchUp, se vuoi essere un po' più pratico nella tua modellazione, se vuoi approfondire poi il progetto, come può essere portato avanti in SketchUp, ti segnalo, o ti ricordo, la scuola3d.marcochiarelloarchitetto.com, dove ci sono i miei videocorsi dedicati appunto a SketchUp, e al rendering. Per oggi dalla fotogrammetria è tutto, e alla prossima, e al prossimo video.